Questo incontro Si, così, spontaneamente sono abituato a vederci in modo spontaneo contemporaneamente io mi faccio interrompere con grande piacere faccio solo un secondo di introduzione dopodiché la stampa in modo senza alcuna formalità anche perché sono sprovvisto da detto stampa può interrompermi senza alcun problema questo incontro è stato da me voluto perché la riviera Ionica è giusto che cominci a conoscere alcuni dettagli non solo della mia vicenda giudiziaria che già ne conosce abbastanza ma come si solture non è finita qui ma di quelli che ora cominciano ad essere alcuni moventi allora già posso dirvi definitivamente che uno dei moventi che riguardano la mia vicenda giudiziaria è l'opera di metanizzazione dei 15 comuni della riviera Ionica perché? perché ora chiariremo un primo profilo delicato chiarendo anche che su questa vicenda finalmente si è aperto un fascicolo in procura che si chiama proprio lavori di metanizzazione dei 15 comuni della riviera Ionica perché non si fanno questi lavori negli ultimi 30 anni? la risposta purtroppo la storia ve l'ha consegnata il territorio troppo segmentato interessi molto elevati all'improvviso succede un miracolo tutti i 15 comuni della riviera Ionica che rappresentano i cretini a livello regionale perché? su circa 40 comuni in tutta la Sicilia dove non arriva il metano 15 sono concentrati in questa zona quindi sicuramente non abbiamo rappresentato da questo punto di vista un territorio intelligente riescono a trovare una soluzione per risolvere finalmente una questione storica e mettersi al passo con i tempi anche da questo punto di vista riusciamo a fare una convenzione e quindi a impostare una strategia che si regge a prescindere dall'occasione della finanziabilità del bando regionale mi pare che uscì ad agosto del 2009 naturalmente alcuni profili io in questo momento non posso raccontarli però vi posso dire senza tema di smentita che da settembre 2009 succedono tutta una serie di cose che riguardano i responsabili di questa convenzione che era il defunto sindaco di Fiume di Nisi resistiamo diciamo anche no importanti e io mi rifiuto anche di nominare la commissione aggiudicataria di questi lavori nonostante la norma me lo consentisse faccio una procedura di evidenza pubblica e meno male perché se sono vivo probabilmente è per questo motivo quindi si forma una commissione dove hanno partecipato hanno mandato curriculum vari personaggi e di conseguenza io salvo la mia pelle e andiamo avanti riusciamo anche ad aggiudicare i lavori si aggiudica i lavori la fin consorzi e si va avanti ma si va avanti anche parallelamente con tutta una serie di rifiuti di no che erano finalizzati a salvaguardare l'autonomia della Riviera Ioni che soprattutto a salvaguardare quello che era un principio fondamentale in questo ragionamento cioè quello di realizzare un'opera che il territorio aspettava da 30 anni ma di realizzarla anche seriamente in tutto questo i comuni per miracolo riescono a trovare in questa procedura l'unanimità nell'individuare non solo il comune di Fiume di Nisi il comune capofila ma anche a individuare quella che è la figura chiave di questo intervento nel responsabile unico del procedimento nella persona del geometra Giuseppe Giardina chiariamo anche a tutti quanti in una detta lavori cos'è il RUP? Il RUP è un lavoro pubblico qua ci sono professionisti presenti è quella figura che si interfaccia in termini definitivi in tutte le fasi di progettazione di esecuzione dei lavori con l'impresa e svolge una funzione pubblica nel senso che nel momento in cui viene nominato è inamovibile perché deve non garantire l'entappaltante deve garantire la funzione pubblica della correttezza di un procedimento rispetto a tutto il mondo perché spesso c'è anche da questo punto di vista l'errore di configurare il RUP come la persona di fiducia dell'entappaltante non è così lo nomina l'entappaltante e dopodiché si sgancia e svolge un ruolo autonomo perché deve garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e quindi risultato quindi il RUP nel momento in cui si appaltano i lavori è quel soggetto che deve garantire tutto questo non solo ma a livello operativo è quel soggetto che si interfaccia tra i 15 comuni e l'impresa e di conseguenza è quello che poi certifica la correttezza la quantificazione di tutti i vari interventi parliamo noi di 120 milioni di euro circa cioè di un lavoro che probabilmente a livello regionale è stato il più consistente appaltato negli ultimi 5 anni si potrebbe fare la statistica e verificare il tutto naturalmente la grande politica regionale non è riuscita a mettere le mani su questa opera lo dico naturalmente in altra sede tra qualche giorno dirò il perché il dettaglio quindi in questo momento c'è un obbligo mio di riservatezza su alcuni profili posso dire chiaramente che la riviera ionica impedisce alla grande politica regionale di mettere le mani sul metano a un certo punto De Luca viene ucciso e di conseguenza sul cadavere di De Luca cominciano a nascere tutta una serie di trattative tutto si concretizza quando quando dopo mesi di stasi e parliamo noi del periodo che va dal primi di ottobre fino al 21 dicembre succede una cosa strana viene fatto il ruppo viene fatto fuori il ruppo il geometra giardina all'improvviso si dimette e io dico viene fatto fuori il ruppo cioè quella figura che doveva garantire la riviera ionica e doveva garantire anche la correttezza di tutta la procedura soprattutto in fase esecutiva cosa succede il 4 novembre 2011 giardina viene fatto fuori il 19 mi pare dicembre qualcuno scrive al comune di Catania e chiede che venga inviata il l'ingegnere Ferracane Salvatore Ferracane a comune di Fiume di Nisi quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale la nota è del 4 novembre 2011 attenzione alla data l'ingegnere Ferracane il 3 novembre 2011 aveva comunicato al suo dirigente che voleva andare al comune di Fiume di Nisi per fare il responsabile dell'ufficio tecnico comunale il 3 novembre Ferracane chiede l'autorizzazione il 4 novembre invece viene formalmente presentata non presentata datata la nota che richiede al comune di Catania di portare al comune di Fiume di Nisi che è arrivata un'altra notizia in diretta ora la diciamo che deve appunto svolgere questo nuovo ruolo perché Ferracane è innamorato di Fiume di Nisi questo lo capiremo strada facendo nel frattempo però che succede viene revocato all'onorevole De Luca a tutta la sua congrega compreso quindi il geometra d'Anna il divieto di dimora a Fiume di Nisi e di conseguenza da 14 di ottobre in poi il geometra d'Anna signor sindaco buongiorno rientra in servizio e questo diventa un problema perché d'Anna ha la categoria D e di conseguenza a titolo da tutti i punti di vista in un progetto criminale di sostituire il RUP di fare il RUP viene fatto fuori d'Anna con una procedura che è al vaglio e sarà al vaglio naturalmente di chi di competenza quindi viene ucciso d'Anna e contemporaneamente si innamora l'ingegnere Ferracane del comune di Fiume di Nisi arriva Ferracane al comune di Fiume di Nisi viene nominato responsabile dell'ufficio tecnico comunale il 21 dicembre 2011 viene convocata all'assemblea dei sindaci per nominare il nuovo RUP o meglio all'ordine del giorno c'era una dicitura sibillina che è degna dell'alto burocratese del commissario Montalbano dei Fiume di Nisi procedure e profili riguardanti al RUP si parla del RUP ma non si dice e non si dice non si indica in modo chiaro la questione che poi verrà affrontata perché e perché ancora il RUP il geometra giardina quando è stata convocata l'assemblea mi pare il 15 di dicembre 16 dicembre era ancora vivo non era morto cioè era in carica si dimette il 19 o il 20 o il 20 di dicembre naturalmente anche qua come è stato per Ferracane che aveva visto nella sua sfera di cristallo il 3 novembre che qualcuno avrebbe richiesto il 4 novembre che lui andasse a Fiume di Nisi la stessa sfera di cristallo viene utilizzata in questa occasione cioè il commissario Montalbano nella sua sfera di cristallo 15 di dicembre scopre o indovina che il geometra giardina si sarebbe dimesso il 19 dicembre io me la voglio fare prestare questa sfera di cristallo è importante fatto sta che giardina si dimette il 19 dicembre la sua il suo funerale viene invece annunciato il 15 dicembre il 21 dicembre si consume il misfatto l'onorevole De Luca già aveva sentito parlare di Ferracane ad ottobre qua non posso dire chi me l'ha detto perché lo devo dire un'altra sera prima e il perché che cosa ho risposto fatto sta che il 21 dicembre con una procedura illegale illegittima e naturalmente il fascicolo si apre per questo viene celebrato il funerale di geometra giardina ex RUP dei lavori di metanizzazione e viene incolorato RUP Ferracane Don Euro e De Luca il 21 dicembre fa una nota ve l'ha ricordato e dice attenzione e lo dice ai sindaci a tutti i sindaci dei comuni del bacino di metanizzazione e non consentite che vengano messe le mani sul metano nel senso che non dovete consentire che con tutto il rispetto della provincia di Catania oltre all'impresa che è di Catania ma ha fatto una gara e l'ha vinta anche quella che è l'unica figura che interloquisce che deve garantire la regolarità la funzionalità e quant'altro di un lavoro di 120 milioni di euro venga individuato non potevo scriverlo in quel momento perché dice vatti chi te l'ha detto giustamente non potevo scrivere in quella lettera che l'ingegnere Ferracane sarebbe stato nominato RUP ma ho detto non consentite di mettere le mani che cosa si intendeva potevamo avere noi l'impresa di Catania e il RUP di Catania non sono razzista per carità di Dio ma se noi già avevamo fatto una procedura prima del mio arresto ed esattamente avevamo messo nel verbale numero 2 del 21 marzo 2011 la nomina del supporto al RUP Giardina nella figura di un ingegnere da individuare con evidenza pubblica all'interno dei 15 comuni facenti parte del bacino non solo il in questa riunione 21 marzo 2011 stabiliamo di fare l'ufficio del RUP allargato non era un'invenzione di Montalbano il 21 dicembre 2011 l'avevamo stabilito prima noi ricordiamoci le cose ed ecco che arrivano i nomi nel frattempo e questa questione viene utilizzata nel verbale del 21 dicembre per cercare falsamente di far apparire nel verbale che si era fatto una votazione per nominare il RUP e quella votazione era dimostrata da un fatto che tutti i sindaci avevano anche votato contestualmente il proprio nome designato per fare per comporre l'ufficio del RUP ti posso chiedere una cosa ma nella nella concretezza dei fatti cioè lo scandalo dove sta in questa procedura semplice lo scandalo è il primo che viene fatta una procedura illegittima perché la convenzione che è stata unanimemente approvata no lo dice la convenzione ed è stato scritto agli organi inquirenti la convenzione prevede molto semplicemente una cosa che il RUP proprio perché tutti quanti riconoscevamo che era la figura più delicata viene individuata attraverso una procedura nei consigli comunali la sostituzione deve passare attraverso i consigli comunali fatto questo il comune capofila incarica formalmente il RUP o lo sostituisce tutto questo non viene fatto per ovvi motivi perché naturalmente una situazione del genere probabilmente non sarebbe stata accettata o probabilmente all'unanimità per come prevede la procedura sarebbe stata accettata e allora il ragionamento politico intanto è molto semplice se la riviera ionica voleva consegnare il proprio destino su questa grande opera sull'opera più importante a un RUP di Catania era libera di farlo ma lo doveva fare qua c'è un presidente del consiglio mediante quella che era la convenzione le regole approvate all'unanimità nei singoli consigli comunali che ci fosse stato un presidente del consiglio che si sia indignato di fronte a questa procedura ma la cosa più scusa ma in pratica che andrà a cambiare che cosa cambia nella realtà nelle concretezze semplice ed è l'interrogativo che ci siamo posti tutti quanti perché l'eventuale sostituzione di Giardina che non era illegittimo che c'è un parere anche legale che non è vero ma è falso perché il commissario Montalbano ha tenuto nascosto per un periodo un parere legale di un tal avvocato De Luca il quale lo sapete in sintesi che ha scritto che il geometra Giardina non era stato mai nominato RUP non aveva mai fatto il RUP e qua ci sono le carte purtroppo che dicono tutto l'opposto quindi su questo falso presupposto si va avanti e allora il tema è questo perché per come già ho deciso nell'assemblea numero 2 cioè il 21 marzo 2011 il commissario non ha interpellato i 15 comuni per chiedere se avevano una figura che avesse i requisiti per svolgere il RUP prima domanda che rivolgo a tutti i colleghi sindaci seconda domanda perché è stato individuato nominativamente l'ingegnere Ferracane il 4 di novembre 2011 chi è l'ingegnere Ferracane che ruolo ha svolto finora a Catania che rapporto ha avuto finora con l'impresa questi sono gli interrogativi che naturalmente riceveranno una degna risposta e che tutti i sindaci si dovevano porre nel momento in cui nasce il problema di una sostituzione illegittima e non ci si chiede perché stranamente qua non si adotta nessuna procedura di evidenza pubblica ma si individua nell'ingegnere Ferracane che professionalmente è scarso e lo sapete perché è scarso? perché ha sbagliato già al primo atto importante la convocazione della conferenza dei servizi ha sbagliato a convocarla si è dimenticato alcuni enti allora è scarso mi vuole querelare l'ingegnere Ferracane faccia pure perché? perché nel momento in cui si fa una procedura illegittima viene individuato nominativamente si presuppone che è uno scienziato e si vogliamo ricordare che questo Ferracane in questi giorni si è dimesso ora arriviamo al dunque perché ancora non è finita qua non è finita ora arriviamo alla conclusione della vicenda allora Ferracane è scarso lo dimostrano gli atti e quindi il commissario Montalbano porta una persona scarsa con una procedura illegale e questo è stato il regalo che i sindaci hanno accettato andiamo avanti tre sindaci coraggiosi cercano di opporsi rispetto a questa questione che è la nomine illegittima del RUP cioè si schierano contro chi? contro la grande politica regionale perché Montalbano il commissario Montalbano non rappresenta l'onorevole De Luca rappresenta Raffaele Lombardo lo ha detto anche chiaramente quando è venuto per la sera mi manda picone a Fiume di Nisi così disse sono il rappresentante di Raffaele Lombardo ma va che coincidenza questa qua e allora tutti i sindaci hanno paura a opporsi nonostante sanno che è illegittima la procedura a tutta sta vicenda tranne i sindaci di Alitterme il sindaco di Mandanici il sindaco di Alissuperiore anzi pardon prima otto sindaci o nove non mi ricordo avevano fatto un documento dove avevano richiesto la convocazione straordinaria dell'assemblea perché c'era un verbale falso otto o nove sindaci innottate è successo qualcosa perché l'indomani quei sindaci hanno ritrattato e allora dico a tutta la Rivera Ione che ve lo dirò ai magistrati sono pubblici ufficiali qualcuno ha dichiarato il falso e allora ora bisogna capire chi è che ha dichiarato il falso ora bisogna capire perché dei pubblici ufficiali hanno cambiato all'improvviso idea ci sono state pressioni beh lo dice uno che è stato arrestato per concussione è esperto di quelle che sono logiche delle pressioni giusto? beh lo verificheremo fatto sta che cinque pubblici ufficiali all'improvviso in neanche 24 ore cambiano idea che succede in questa riunione del 3 febbraio 2012 il commissario Montalbano e questo lo richiama il sindaco di Calumera fa un passaggio importante dice state tranquilli De Luca manco mi nomina chi è il domestificatore che io lo devo far arrestare nuovamente questa è storia attenzione quelle dice Fesserie perché perché l'ingegnere Ferracane se ne va con me cioè quando finisce il mio ruolo di commissario lui se ne va perché degate dal ruolo perché l'ho nominato io ma guardate che è falso sto soggetto e il sindaco Miasi e riportando nel verbale non fa altro che ripetere questa frase il sindaco Miasi dichiara in questo verbale e qua che sprende atto di ciò che ha dichiarato il commissario Montalbano e cioè che l'ingegnere Ferracane nel momento in cui finisce la gestione commissariale se ne ritorna a Catania quindi dice ma perché fate tutto sto bordello per 3-4 mesi ebbene come mi ricordavano all'improvviso dopo il comizio di fiume di Nisi l'ingegnere Ferracane ha pensato di dimettersi certo avrà saputo che io il giorno prima ho fatto un esposto articolato in procura non ci sono dubbi le date sono date fatto sta che l'ingegnere Ferracane si dimette per motivi familiari il 5 credo di sì il comizio è stato il 4 il 5 di marzo all'improvviso per motivi familiari si dimette dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale perché l'esposto che io ho depositato il giorno prima non era riferito al metano era riferita alle omissioni che si erano consumate presso il comune di fiume di Nisi in quanto non mi venivano più consegnate le carte che i miei legali avevano richiesto continuamente per smontare definitivamente le stronzate degli organi inquirenti e dei miei e dei dichiaranti e confidenti di questura il commissario Montalbano collabora contro di me con gli organi inquirenti abbiamo le prove e la prova principale qual è che all'improvviso scrive dicendoci che non ci dava più carte se volevamo le carte dobbiamo chiedere al pubblico ministero guarda caso il pubblico ministero avrebbe detto chiaramente le carte non sono importanti arriviamo arriviamo alla conclusione arriviamo arriviamo alla conclusione perché noi non presentiamo l'esposto su metano perché dovevamo avere la conferma di un ragionamento e cioè che Ferracane non era venuto a Fiume di Nisi perché con spirito Francescano doveva aiutare il commissario Montalbano a tenere le sorti del comune di Fiume di Nisi e allora lo incalziamo sul fronte del responsabile dell'ufficio del Chiume Comunale si dimette il 5 non si dimette invece dal responsabile unico del procedimento dei lavori del metano perché è semplice e qua si scopre o meglio c'è la conferma di tutto ciò che noi avevamo sostenuto dall'inizio De Luca aveva detto no in questi anni a determinate richieste in questo momento non posso dirlo finalmente sul suo cadavere si trova la soluzione per chiudere un ragionamento sui lavori di metanizzazione perché l'ingegnere Ferracane corrisponde a una certa parrocchia con nome e cognome e naturalmente di questo se ne parlerà in altra sede e allora che succede per chiudere il ragionamento la conferma che una procedura illegittima si era messa in atto perché si doveva chiudere in modo unanime la corrispondenza tra l'impresa e il responsabile unico del procedimento l'abbiamo avuta nelle dimissioni del 5 marzo dell'ingegnere Ferracane solo dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale Ferracane per chiarire a quelle che sono state ignoranze io dico non volute mi auguro di tutti i miei ex colleghi sindaci presidente del consiglio che ora è meglio che si attivino perché non è possibile che la riviera ionica sia stata consegnata venduta perché abbiamo anche alcuni elementi di scambio tra alcuni sindaci lo voglio dire e la grande politica regionale perché se andiamo a guardare quello che si è verificato in questi ultimi sei mesi finanziamento all'improvviso nomine in commissione regionale all'improvviso e quant'altro vi renderete conto anche perché sul cadavere fumante dell'onorevole De Luca ancora era la fumante quei colleghi soprattutto anche quelli che hanno partecipato alla fondazione di Sicilia vera all'improvviso all'improvviso si convertono sulla via di Damasco c'è lo scambio e ne parleremo in altre sedi Scusi lei ha fatto un escluso per quanto riguarda la rete metanifera dall'inizio fino a la realizzazione di questo benedetta rete metanifera lei perché dice giù le mani dal metano che cosa intende dire molto semplice nel momento in cui partono i lavori le figure principali dei lavori dell'esecuzione sono due i soggetti principali l'impresa e il responsabile di uno del procedimento ma se il responsabile di uno del procedimento scusate durante l'esecuzione dei lavori o durante anche la correttezza dei lavori o durante la certificazione anche dell'importo dei lavori perché non dimentichiamoci che un project cioè fondi di finanza privata se durante tutte queste fasi ci troviamo con una persona che sta magari all'ufficio tecnico di Catania se dobbiamo noi sistemare un'utenza piuttosto che un'altra oppure pensare che un'utenza va modificata e questo sta presso il comune di Catania perché poi parliamoci chiaramente l'ufficio unico formato da tutti i vari responsabili degli uffici tecnici ha una valenza relativa giuridicamente voglio ricordare a me stesso che non esiste l'ufficio dei RUP esiste il RUP sia chiaro allora questo che cosa significa ora operativamente noi ci siamo battuti per portare il metano e ci siamo battuti affinché l'opera si faccia e si faccia soprattutto nel modo più corretto possibile sotto tutti i profili legali sotto il profilo degli interventi quantificati nella gara d'appalto e quello è il ruolo fondamentale del RUP e soprattutto per quelli che sono gli utenti si faccia anche con tutti i crismi della operatività e cioè che tutta l'Oar Riviera Ionica e tutti gli utenti dei vari comuni vengano serviti fino all'ultima utenza e fin qua ci siamo ma qualcuno qua bisogna parlare chiaro perché diciamo le voci circolano qualcuno invece sostiene che la battaglia tra virgolette tra lei e il commissario al comune di Fiuco sta semplicemente o starebbe per meglio dire semplicemente nella gestione dei 120 milioni questa è fantastica perché il comune capofila che si è rifiutato di scegliere la commissione individualmente per come la legge prevedeva cioè io parliamoci chiaramente potevo scegliermi tutti i componenti della commissione se volevo gestire questo lavoro non l'ho fatto e tutti i sindaci lo sanno ho rifiutato perché avevo paura di essere ammazzato e allora faccio un'evidenza pubblica per proteggermi e sono arrivati curriculum da tutte le parti da Milazzo da Catania e allora scusatemi ma se io mi volevo prendere il milioncino di euro non potevo nominarmi la commissione e definire tutto un percorso e no mi sono rifiutato naturalmente ma non solo perché ci tenga la mia pelle ma non sono ancora tanto lo sapete perché ci tengo e ci tenevo a mantenere autonoma la riviera ionica in questa procedura ecco qual è la questione quindi non è che qua c'è la battaglia per i soldini francamente mille difetti ho ma ho dimostrato senza dubbi e qua c'è un elemento un esempio lampante quando è stata scelta la commissione di gara e allora già su quello l'onorevole De Luca ha dimostrato di non essere sensibili a certi argomenti e purtroppo di non essere funzionale a certi grandi sistemi è inaffidabile da questo punto di vista e l'ho confermato operando di conseguenza e quindi un bell'appalto importante che doveva anche ricevere fondi pubblici che sono spariti caro Gianni all'improvviso circa 20 milioni di euro perché ricordiamoci le cose questa operazione si fa in occasione di un bando pubblico regionale dove c'erano in palio 50 milioni di euro lo sapete che cosa è successo sono arrivate da parte del territorio proposte per circa 300 milioni di euro complessivi se non sbaglio 120 erano della riviera ionica come proposta e che significava che oltre un terzo dei 50 milioni andava a finire come fondo pubblico alla riviera ionica sono spariti questi soldi non so dove sono andati a finire ecco fin qua diciamo abbiamo un po' capito diciamo l'ingranaggio che un po' strano ecco definiamolo di come sono andate le cose per quanto riguarda la gestione di questi lavori che coinvolgono diciamo lo ricordiamo 15 comuni della riviera ionica tutta questa storia andrà a ripercorrersi sull'inizio dei lavori oppure noi avevamo chiarito che le stronzate dichiarate dal commissario Montalbano sull'inizio lavori erano stronzate lui aveva dichiarato che già a marzo i lavori sarebbero iniziati tecnicamente qua ci sono dei professionisti sanno bene che queste procedure hanno dei passaggi che sono cristallizzate dalle norme di conseguenza era ovvio che prima di settembre ottobre non potevano iniziare i lavori e non possono iniziare i lavori a prescindere da questa situazione che non sta bloccando niente perché voglio ricordare a me stesso che l'impresa è sotto amministrazione giudiziaria dal 23 di dicembre scorso questo significa che al di là di tutto ci sono tre professionisti nominati dal tribunale di Catania che stanno amministrando l'impresa noi naturalmente ci auguriamo che tutto venga chiarito al più presto perché non auguriamo a nessuno cose brutte se purtroppo gli inquirenti di Catania verificheranno che il sospetto che è stato paventato dietro questa impresa diventa con credezza allora l'impresa passerà allo Stato e quindi tutte le concessioni sono salve perché i lavori da questo punto di vista andranno avanti sotto un'altra gestione ovviamente diciamo si allungheranno in maniera esponenziale i tempi di realizzazione assolutamente no tant'è vero che questi amministratori giudiziari mi risulta che stanno lavorando velocemente anche perché lavorano nell'interesse dell'impresa di conseguenza gli amministratori giudiziari qua ci sono dei legali che mi possono dare lezione lavorano per non solo far mantenere gli impegni all'impresa ma per mantenerne la solidità infatti tutto sta andando avanti regolarmente nonostante ci sia questa situazione per quanto riguarda invece la vicenda del RUP e allora qua bisogna chiarire una cosa quella è chiusa almeno no sui tempi allora per quanto riguarda i tempi noi avevamo evidenziato il 21 dicembre a tutti i sindaci di smetterla con le procedure illegittime perché andare nei consigli comunali e noi l'abbiamo fatto quando abbiamo approvato la convenzione non significava bruciare mesi di tempo anche perché voglio ricordare a me stesso che nel mese di ottobre di novembre e di dicembre non si è fatto niente perché si doveva consumare il misfatto e si doveva cunzare la tavola come si suol dire per chiudere l'operazione del nuovo RUP quindi tre mesi di fatto bruciati dopodiché dal 21 di dicembre in poi non si è fatto altro che convocare la conferenza dei servizi che il ferracane sbaglia quindi si è dovuta prorogare questo perché abbiamo fatto una procedura illegittima per portare uno scienziato a a Fiume di Nisi come rappresentante dei 15 comuni e siamo noi esattamente in una procedura normale che va avanti certo ora lo dico qua al sindaco Miasi che è presente due sono le cose Gianni nel verbale numero due c'è riportata una dichiarazione ben precisa in questo verbale c'è rappresentato un profilo che riguarda esattamente la questione che era stata sollevata anzi il verbale è del 3 febbraio 2012 l'ultima assemblea che avete fatto tu in questa assemblea Gianni hai riportato il pensiero del commissario Montalbano hai detto prendo atto di quello che dice il commissario e cioè che il RUP finisce con la sua gestione bene due ora sono le cose o ha detto stronzate il commissario Montalbano o ha detto stronzate il sindaco di Rocco Lomera ma siccome è qua presente e so che stronzate non ne dice e allora arrivato a questo punto caro Gianni ci sono stati cinque sindaci che hanno richiesto ed ecco l'altra novità la convocazione urgente dell'assemblea straordinaria dei sindaci e allora ora va fatta chiarezza Gianni su questo aspetto perché che venga qualcuno di Catania e ci pisci in bocca scusate la volgarità lo potete anche stabilire ma la riviera ionica deve sapere però perché lo avete stabilito e qual è stato lo scambio perché scambio c'è stato e gli elementi li abbiamo tutti naturalmente questo non è un ragionamento che vale per tutti assolutamente no e me ne guarderei bene io posso parlare delle cose che so e delle cose che abbiamo riscontrato questo sì e posso dire senza alcun problema che questa questione non ha assolutamente contagiato tutti i sindaci questo lo voglio dire ma la maggioranza sì ma questo poco importa che si ritorni nel binario della correttezza nei confronti della vivera ionica punto primo punto secondo che si vada subito riprenda il binario della legalità e ve lo dice uno che è stato arrestato su questo principio della legalità e allora vale per tutti i sindaci cerchiamo di ritornare nel binario della legalità dopodiché fatevi dire una volta per tutte dal commissario Montalbano se vi ha preso per il culo perché vi ha preso per il culo poi se l'ha fatto per alcuni motivi di natura diversa o che hanno altra rilevanza non si vedrà in altra sede nel consiglio comunale si fa politica e allora la riviera ionica deve sapere se tutti i 14 sindaci sono stati presi per il culo dal commissario Montalbano oppure sono stati alcuni corrotti da alcuni sistemi della grande politica regionale e quindi hanno consegnato scientemente o inconscientemente la riviera ionica all'ingegner Ferracani il quale per legge e chiude il ragionamento la legge prevede che è un RUP proprio perché svolge una funzione pubblica nel momento in cui viene nominato è inamovibile inamovibile il che significa che l'ingegnere Ferracani si è dimesso il 5 di marzo dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale bene e RUP e rimarrà RUP per i prossimi 4-5 anni RUP dei lavori di metanizzazione e questo è una cosa scandalosa sotto il profilo politico perché al di là delle stronzate che sono state dette e di cui avete preso atto voi perché se andate e vi leggete Gianni Miasi se vi leggete il parere dell'avvocato De Luca se lo avete letto dove vi ha scritto in sostanza che per lui Giardina non ha mai fatto il RUP e allora vi sta dicendo a tutti quanti che finora abbiamo fatto un falso storico ma fico siamo arrivati ci siamo piati cervella a questo punto ma che cazzo è successo in questa riviera Ionica in questo periodo che cosa è successo ci arriva un avvocato e ci dice che Giardino non ha mai fatto il RUP ma scusatemi ma è possibile che un solo sindaco o meglio oltre quei tre che si sono scontrati su un principio molto chiaro nessuno si è scandalizzato nonostante state accusate di falso siete stati accusati di falso tutti quanti e nessuno ha reagito quindi Giardina secondo l'avvocato De Luca non aveva fatto il RUP e come? migliaia di lettere firmate di convocazioni di firme sul progetto sulla richiesta di finanziamento ma chi era allora Giardina? Pincopallino? e questo è passato inosservato anche questo non mi interessa il motivo io io sono bene finora neanche l'avvocato De Luca è riuscito a dimostrare che Giardina non aveva i titoli ma così dico ecco fatto ma posto anche questo perché non si è preso il RUP del comune di Roccalumela? perché non si è preso il RUP del comune di Alettere? perché non si è preso il RUP del comune di Santa Teresa? ma abbiamo noi tutti i coglioni nei nostri uffici dei genici che non hanno i titoli? eh? e no qua c'è qualcosa che non va ragazzi io non lo so ripeto che cosa è successo morto De Luca abbiamo perso tutti la testa o forse è stato talmente un trauma la morte di De Luca che giustamente ormai prima di aprire la bocca ci pisciamo a gosso perché giustamente abbattuto De Luca uomo di mille battaglie l'incramontabile De Luca tutti possono essere ammazzati e beh potrebbe anche essere ma allora cambiate mestiere tutti quanti scusatemi e con tutto il rispetto quando si entra in questa logica o in questa paranoia non si è degni di rappresentare le comunità con rischi annessi e connessi ora per chiudere ci sono stati cinque sindaci che io li devo nominare per dovere di chiarezza che hanno chiesto la convocazione urgente dell'assemblea del bacino dei 15 comuni della Rivera Ionica per quanto riguarda lavori in gestione di metallizzazione i sindaci sono stati il sindaco di Savoca dottore Bartolotta il sindaco di Casalvecchio Onofrio Rigano il sindaco di Ali Terme Grasso Lorenzo il sindaco di Ali Superiore Carmelo Satta il sindaco di Mandanis Armando Carpo questi cinque sindaci hanno chiesto al commissario la convocazione urgente dell'assemblea gli altri sindaci si sono rifiutati di firmare perché io sono chiaro e le cose le chiamo con nome e cognome ok? si sono rifiutati ma non è quello il problema perché l'occasione ora per andare fino in fondo in questa vicenda e quindi capire chi ha dichiarato il falso perché qua ci sono troppi pubblici ufficiali di mezzo e da quelli che sono gli elementi emersi i pareri che sono stati depositati il contenuto di questi pareri il cambio improvviso di idea ma guardate che siete tutti pubblici ufficiali quando si cambia idea quando si viene smentiti da documenti che vengono depositati anche se prima tenuti nascosti e qua siamo nell'ambito del falso pubblico qualcuno dovrà chiarire tante cose ecco io desidero chiarezza anche su questo profilo e allora c'è la prossima assemblea che il commissario Montalbano sicuramente farà di tutto per convocare il più tardi possibile anzi probabilmente ora la convocherà subito e allora là tutti i sindaci gli consiglio per il rispetto che io ho sempre portato nei confronti di tutti i colleghi è solo un consiglio questo di leggersi tutta la storia da quando abbiamo iniziato che ricordino a loro stessi come abbiamo operato e con quale procedura di evidenza pubblica e con quale scrupolose procedura abbiamo agito lo dico in modo tale che mettano a confronto quella fase del defunto De Luca con la nuova fase mettetela a confronto probabilmente vi potete dare la risposta se De Luca ha ragione o non ha ragione ma questo poco importa quello che voi invece dovete fare consentitemi è garantire serenità alla riviera Ionica per questi lavori e con tutto il rispetto io non sono sereno con un RUP che si chiama Ferragane si potrà chiamare Pinco Pallino o Pinco Palla ma sono tranquillo se è uno del RUP che è espressione di uno dei 15 comuni della riviera Ionica per tutti i prossimi 5 anni e questo mi dà serenità sotto il profilo politico e mi permetto di dire anche sotto il profilo della legalità va bene ci sono domande chiarimenti su questa vicenda ho dimenticato qualcosa e dico se la procedura comunque è illegale di nomina del RUP è evidente che ne servirà anche una c'è un fascicolo aperto in procura ora si cominceranno le verifiche del caso e si comincerà a verificare anche perché ripeto repentini cambi di posizione di idee cambi di pubblico ufficiale naturalmente scusate Luca ma ora questa vicenda del vaccino del metanifero è roba molto importante ma che c'entra con la tua vicenda personale tra virgolette allora io in questo momento dettaglio non ne posso dare perché ci sono indagini riservate in corso vi posso solo dire una cosa vi ho detto che De Luca non nomina la commissione la giudicataria non la sceglie direttamente pur potendolo fare ho detto e non è lontano dalla realtà che questo mi ha salvato la vita un altro aspetto De Luca rifiuta alcuni consigli perché in esperto non ha mai fatto non ha mai tra virgolette gestito perché la legge me lo consentiva i sindaci bontà loro mi hanno dato fiducia non ha mai gestito un lavoro di 120 milioni di euro quindi in esperto De Luca non ha accettato consigli parliamo di novembre 2009 gennaio febbraio 2010 De Luca viene iscritto nel registro degli indagati a gennaio 2010 abbiamo già anche spiegato o campiamente chi è il confidente con chi è collegato tant'è vero che comunque all'improvviso questo grande difensore dell'onorevole Corona si dichiara folgorato sulla via di Damasco dell'autonomia ma questi sono profili che affronteremo piano piano perché io l'ho detto anche al procuratore Barbaro non deve fare indigesto questo pasto a nessuno noi abbiamo cominciato a servire l'aperitivo per sei mesi abbiamo studiato come cucinare lo abbiamo fatto in silenzio ripeto perché era giusto che io facessi il mio ruolo di indagato e di delinquente patentato ora abbiamo finito tutte le nostre attività di indagine e abbiamo cominciato a depositare il materiale naturalmente siccome le attività e le questioni in parte sono connesse perché io non ho problemi a dire visto che ormai abbiamo smontato tutte le stronzate della procura e anche tutti quegli accusatori che la procura ci ha impedito di fare l'incidente probatorio ad ottobre scorso non ho motivo di nascondere che io sono vittima del sistema regionale punto e nelle sete opportune ora cominceremo a affrontare anche questo tema attento mal Grazie.